ciao signori oggi da come avete capito dal titolo dobbiamo restaurare una scuola dobbiamo restaurare dobbiamo restaurare una scuola non so neanche scrivere granate non posso metto una granata nascono è più restauro di così ma dobbiamo pulire gli scarafaggi stavano pure nella mia scuola no scherzo sì sì questi rappresentano molti cessi di una scuola questi almeno avevano le porte nei bagni almeno vedete allora la stanza del preside bello lo possiamo lasciare così no eh che immagino che poi la devo pure arredare bello la sala insegnanti dove professori tutto fanno tramite lavorare con dat nomi di socio dov'è se mettiamo qua sopra ne posso vendere non è bello vendere le cose che non sono io questo lascio tutto così allora dopo puliamo ma prima di tutto fatemi togliere eh la madonna ma prima di tutto fatemi togliere le cose il grosso e ovviamente ora dobbiamo passare tut tutta la scuola facendo così che bello voglio morire ah questo non è sporco è alluginito bello poi lo sporco 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 e devo dipingere questa stanza di questo e di questo ma due colori orribili mostriamo mezz'ora qua facciamo sta roba per tutto ma mica l'avevo non era montato o non era montato lui oppure se lo siamo io vabbè ok ok tra 3 2 e 1 sarà finita questa che bello questo colore ti devo dire ti devo dire carino che colore è se che non lo so però bello bello anche quello c'è solo due tonalità totalmente diverse però forse chi mi ha detto metti sti colori era dal tonico non usas ma è bella ti devo dire bella cioè io non gli avrei messi sti colori però bello e che cazzo lo metti poi? vabbè li facciamo verdi a sto punto ok lo infiliamo nel buco ah condizionatore lo infiliamo nel buco ah vabbè ma aspetta la presa di corrente è rotta oh ma tu hai capito il preside che c'è il bagno privato ehm ok ok bello posso vendere tutto questi no che sono computer importantissimi ehm questo neanche due scatole di cartone mai sia poterle vendere non stiamo giocando un gioco di furti quello non lo posso vendere cioè tu mi fai vendere delle scrivanie è praticamente tutto di più però no le scatole di cartone no ma vaffa mica qua pure tre colori vuole un colore a parete e va buco cioè va buco vuol dire che che un colore poi scelgo quale avrà due pareti ehm poi allora faccio questo colore per uno uno e poi vedo quindi io sto pensando vabbè questa parete l'ho fatta di questo colore poi più che fare tutta la parete di questo colore si fa fino qua fino qua e poi l'altro e poi l'altro ok ehm ehm ma questo si vende uffa ehm poi qua chi è ok così c'è uno stacco almeno c'è ma non ho capito perché tre colori cioè non basta uno bah ehm non mi pongo domande quindi quindi questa io la faccio fino a qua eh eh sì facciamo un po' come abbiamo fatto per il blu eh eh loro vogliono tutti questi colori poi questa essendo l'ultima e si fa tutto il resto vabbè vi faccio sapere sembra il costo dello yogurt buono ehm qui lì mi devo dipingere tutta la scuola ah che palle voglio morire voglio morire vabbè vedi comunque si piova non serve a questo ti è sembra che ha vomitato un bambino qua dentro ti è una tenda rossa qua ti è eh sì perché da quello che ho capito questa è una scuola materna ehm poi è una tenda arancione ma perché non entra non c'è abbastanza spazio ma li mortacci vostre non c'è abbastanza spazio tocrei bastardo to beh un minimo c'ha ceca cioè sono un po' più accessi dei muri però probabilmente dobbiamo mettere sedi per i bambini due tre qua cinque sei sette e otto se ne vuole otto le metto così poi la giusta di maestri io non ho mai credito perché dei bambini si devono sedere su ste robe di plastica che cioè che si rompono babù eh eh bello eh giocati con questi robi bello molto carino eh scusate non mi è chiaro questo bagno sarebbe per i bambini ma questi questi water sono alti quanto i bambini ma lo devo riempire di piastrelle ecco appunto io mi sparo un colpo al cazzo però posso dire bello il bagno il cesso tutta ragione ti è ti è la cucina tutta verde c'è sì ma io vorrei vorrei aumentare di livello cioè così provandoci anche oh me ne ha avanzato uno lo buccia anche ma è bella la cucina c'è pure dentro sta stanza no tre colori ma perché non uno va bene che stanno i bambini però metti un colore bello vivace cioè qua più che non cospero i bambini è non cospero anche io però sai che c'è io questa sedia come colore cioè fra te tanto bambini sono mica si fanno problemi ma la sedia è verde però il tavolo è blu cioè io bestemierei in otto lingue perché non è abbinato ma il bambino no la devo solo dipingere meno male che in sto gioco non hanno implementato le persone ma se no io mi ammazzavo guarda a vedere è molto da da bambino però ci sta giustamente devo dipingere pure lo sgabuzzino non è che quello me lo eviti no mo questo è il verde del green screen cioè io mi metto qua e faccio il green screen ah mo questa quindi mo questa è una sala per gli ospiti non ho capito questi sono gli appena di abiti no mettine 16 e io li messi così a cazzo eh che è di una sastanza dai ok che senso ha però e mo devo dipingere il corridoio ma è un bello il corridoio eh signori 16.000 ci danno e ora faccio prima e dopo di tutto prima e dopo ebbe un bel cambiamento prima e dopo beh ti devo dire prima e dopo beh questa è una stanza per le scarpe non ho capito come cioè non ho capito che bello eh bella questa è una cucina non ho capito perché sta un puff in cucina però bello ci sta la stanza del preside bella eh eh poi vabbè fuori eh così rimane perché non mi ha fatto fare niente eh eh signori noi ci possiamo vedere il restauro della scuola fatto se ti va a social iscriviti e metti mi piace a un prossimo video no no no